Ciao, siamo Lucianna e Cristiano, i genitori di Martina Galasso che canterà Il Domani. E' il primo anno che venite a Lucianna e non vi facciano caro? No, è il secondo anno, siamo venuti tre anni fa. Come mai avete deciso di tornare? Mi è piaciuta già la prima volta che sono venuta, credo che queste esperienze siano importanti per crescere. Cosa vorresti fare da grande? Vorrei diventare una cantante, però se non lo diventassi vorrei diventare una brava mamma e una brava persona. Mi racconti un esercizio di Federico? Le squat! Ecco, lo sapevo io! Stai a mettere le gambe sulle dalle gambe e poi ci bisogna piegarsi. Eh, ma tu ti pieghi troppo! Ah, ecco così! Basta! Hashtag giornate meravigliose! Hashtag divertenti giornate. Volevo deno io! Hashtag giornate interessanti.